Salve signor Piavonti, ho portato i cataloghi di quei prodotti che le dicevo. Ah grazie, gentilissima. Le possiamo mostrare la novità anche se siamo in cantiere? Noi veramente avrei un po' da fare. No, una cosa veloce veloce. Va bene, vi faccio vedere. Tenga un secondo. Il bimbo è addormentato. Eccellente, legandolo col cavo marrone.